Buongiorno a tutti e ben ritrovati a consueto appuntamento col bollettino dei Polini di Arpa Piemonte. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a condizioni meteorologiche molto variabili, con precipitazioni intense e giornate anche molto calde. Questo ha determinato comunque una condizione che ha favorito l'aumento della concentrazione pollinica aerodispersa. In questo periodo il Poline maggiormente presente a concentrazioni elevate su tutta la regione è quello delle graminacee. In aumento si riscontra anche il Poline di oleacee, ulivo e di gustro. Nelle diverse aree della regione troviamo poi concentrazioni diverse per alcune famiglie. Nell'area di Novara si manifestano alti livelli di concentrazione di poline di plantaginacee, lanciola e plantagine. A Vercelli troviamo alte concentrazioni di poligonacee, romice e ad Alessandria ancora concentrazioni significative per il poline di fagacee, faggio e quercia. Si attestano a concentrazioni medie o medio basse, le pinacee, abete, pinolarice e le orticacee. A basse concentrazioni troviamo il Poline delle aceracee, acero, delle betullacee, betulla e ontano, delle corilacee, carpino, delle composite e delle platanacee. Ricordiamo a questo punto di consultare comunque il bollettino dei Polini per le diverse aree e le diverse famiglie che si vogliono conoscere nel dettaglio. Troverete tutte le informazioni sul sito istituzionale www.arpa.piemonte.gov.it. Arrivederci alla prossima settimana e buon weekend a tutti!